Ciao a tutti! Questa è la Nile Art che ho fatto per il concorso di MandaFashion. Qua ho disegnato Olaf. Per problemi tecnici questo non è il video della Nile Art che ho fatto e spedito per il concorso di MandaFashion, ma è il video di una delle prove che ho creato. Spero che la Nile Art e il video vi piacciono comunque ed apprezzate il mio gesto di mostrarvi come ho creato questa Nile Art. Buona visione del video! This is Olaf of Frozen for one contest. This was a try. Grazie a tutti! 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 Metti mi un like! Ciao, alla prossima! If you like it, thumb up!